Nella cappella della Madonna del Conforto al Duomo di Arezzo, il concerto di Natale del coro Viscantus Assemble. Il concerto di Natale ad offerta libera quest'anno è stato dedicato al progetto della fondazione Il cuore si scioglie dell'Unicef in collaborazione con Unicop Firenze, un dono per i bambini colpiti dalle guerre. Ci siamo divertiti a cercare di unire, unire un gruppo di recentissima formazione, un gruppo popolare che ha fatto solo otto incontri di avviamento al canto di adulti e l'altro gruppo sempre amatoriale ma ovviamente più avvezzo alla polifonia e abbiamo interpolato brani di carattere popolare delle varie tradizioni del mondo con brani di polifonia antica con il supporto all'organo di Dimitribetti, sempre prezioso in questi contesti. Grazie.